Oggi nello splendido scenario di Villa Marigola si è concluso il progetto Cronisti in classe 2016 con la premiazione dei ragazzi delle scuole vincitrici. Qual è l'obiettivo di questo importante progetto? Come nasce? Questo è un progetto che nasce molti anni fa con lo scopo di avvicinare ragazzi al linguaggio e contenuti giornalistici. Quindi consentiamo alle classiche, aderiscono, di provare a approfondire un argomento di loro scelta e di solito ci stupiscono positivamente perché affrontano temi anche difficili o temi a quali noi cronisti quotidiani forse non sempre penseremo. In questo modo si misurano con due aspetti. La difficoltà di capire problemi, di scegliere, di cercare delle fonti che li consentano di comprendere e l'altra difficoltà che è quella di trasmettere quanto hanno visto e appreso a chi legge quindi la necessità di scrivere in maniera chiara con un linguaggio che per loro non è sempre agevole e quindi questo è un arricchimento anche dal punto di vista del percorso scolastico. A quale edizione siamo arrivati quest'anno? Una edizione fortunata, la tredicesima. Io non sono scaramantico per almeno portare fortuna, 13 mi pare che c'è un numero giusto. Quante le scuole che hanno partecipato? Quest'anno sono state le scuole 13 ma dentro le scuole noi costituiamo le redazioni in classe dei ragazzi quindi erano 14 redazioni in classe in rappresentanza di 14 scuole però partecipavano anche delle pluriclasse. Addirittura abbiamo avuto due redazioni in classe con dei bambini e delle elementari di quinta così li prepariamo per il prossimo anno. Come nasce l'idea di questo progetto? L'idea nasce quindi 14 anni fa, è nata per le scuole medie e superiori anche per combattere il bullismo perché invece di confrontarsi con i cazzotti abbiamo detto facciamoli confrontare pagina contro pagina e vediamo l'istituto superiore che vince. Poi gli istituti superiori sono stati passati all'edizione del quotidiano in classe che è molto più matura e ha una caratura nazionale, ci sono diverse scuole della Spezia che partecipano e quindi noi ci siamo rivolti ai ragazzi delle scuole medie e inferiori che da 13 anni fanno questo campionato. Quelli che l'hanno cominciato quindi sono magari già papà o hanno già finito gli studi e sono già al lavoro. Insomma è un'esperienza in più che hanno. Magari qualcuno è già diventato anche giornalista. E questo non lo sappiamo, bisogna fare un'indagine. Di che scuola siete? Del CIPIA della Spezia, il centro provinciale per l'istituzione degli adulti. E come vi siete classificati? Secondi.